Stefano De Angelis, neodirettore sportivo del Campobasso, una squadra che inizia il ritiro qui in sede presso l'antistadio Acli, una squadra che è pronta, consegnata nelle mani di Cudini, a che percentuale? No, diciamo che siamo a buon punto, il grosso l'abbiamo fatto, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci erano prefissati, manca qualcosina, lo sappiamo, c'è tempo, siamo partiti in un po' in ritardo, però penso che da qui a breve ultimeremo la rosa sicuramente. Quindi Campobasso che evidentemente entro poco sarà pronto, esperti sia lei che Cudini del girone F, un girone che, l'abbiamo detto spesso, racconta una storia a sé perché si è detto sempre un girone tecnico, senza tantissimo pubblico, però con squadre che giocano a calcio, tecniche. Sicuramente un girone importante dove sia a partire dai giovani che dai meno giovani si gioca molto sul, come diceva lei, il fatto che non ci sia pressione da parte del pubblico, quindi i ragazzi sono anche più tranquilli, c'è un tasso tecnico secondo me elevato rispetto ad altri gironi, però, ripeto, nasconde le sue insidie, però noi siamo in Campobasso e sicuramente vorremmo recitare un ruolo importante. Un ruolo importante, magari senza programmi altisonanti, però certamente fare una stagione superiore almeno alle ultime due, nelle quali la squadra rosso-blu ha portato a casa solo due salvezze in mezzo davvero a tante vicissitudini societarie, come lei evidentemente essendo addetto ai lavori ben saprà. Sicuramente, magari Campobasso non ha vissuto anni felici, però, ripeto, adesso guardiamo al futuro, c'è una società importante come proprietà, siamo stati chiamati per questo, noi sicuramente ce la metteremo tutto per migliorare in primis quello fatto, come diceva lei, negli anni precedenti dal Campobasso, ma poi, ripeto, una società che sa quello che vuole, vuole migliorare e noi ce la metteremo tutte per recitare un ruolo di primo ordine. Lei in coppia con Cudini, siete entrambi marchigiani doc, non troppo, come dire, propensi alle parole, ma forse ai fatti, che tipo di allenatore è Cudini? Mirko ha avuto il piacere di lavorarci l'anno scorso, è stata una grande scoperta, ha mostrato sua qualità, è un allenatore che punta molto sul lavoro del campo, in poche parole, è quello che piace a me, ripeto, questo dovrà essere lo spirito di questa squadra, di tutti i ragazzi che sono venuti a Campobasso, perché venire qui in una società importante, in una piazza importante, dove da un passato illustre, penso che già questo ti dia le responsabilità, ma anche gli stimoli giusti. La sensazione è che lei abbia voluto sistemare prima la difesa, forse sarà anche un caso, non lo so, ce lo dirà lei, poi adesso mancano i puntelli forse di qualità a livello di centrocampo in attacco? No, io penso che il centrocampo con qualità siamo al posto, perché come over abbiamo Pizzutelli, Bontà, Candelori, Brenci, perciò penso che a mio avviso abbiamo un campionato, un centrocampo di primo ordine, poi ripeto, ognuno è libero di fare le sue valutazioni, si faranno alla fine, i nomi a me non sono mai piaciuti, cioè non è che si fanno le squadre con i nomi, io penso che questi che ho citato prima, insieme ai 2000, Energe, arriveranno, sarà un reparto dove ha qualità e personalità, perciò è quello che ci vuole per giocare a Campobasso. Un'ultima cosa, lei non è favorevole alle promesse, alle interviste eclatanti, ma ai tifosi che ci stanno ascoltando che cosa si sente di dire? Proclami ne faccio pochi, in primis, ripeto, venire a Campobasso, già noi quando ho accettato questa sfida so benissimo le responsabilità che ho, che si hanno, ma da sottoscritto al mister, ai ragazzi, perciò sappiamo che indossare questa maglia non è come indossare con tutto rispetto maglie di altre squadre, è una piazza importante e speriamo di regalare le soddisfazioni che merita come piazza, come pubblico.